Ciao amici benvenuti nel mio canale. Ti sarei grato se ti piace iscriverti al canale prima di iniziare il video. Non dimenticare di attivare le notifiche per le ultime notizie. La serie Kingfisher continua il suo viaggio sullo schermo aumentando il suo pubblico ogni settimana. La serie Kingfisher, una delle produzioni più straordinarie di questa stagione, ha iniziato ad apparire davanti al pubblico con la firma di OGM Pictures dagli schermi di Star TV a partire dall'ultima settimana di settembre. Facendo luce sul dietro le quinte della relazione apparentemente perfetta della famiglia Coran di Gaziantep, la serie TV si farerà iniziato ad aprirsi al mondo dopo aver guadagnato un posto permanente in cima alle classifiche in Turchia. La serie Kingfisher ha già lasciato il segno in questa stagione. Con OGM Pictures, con Afra Saraoglu, Mert Ramazzan Demir e Cetin Tekindor, The Kingfisher della serie Star TV ha aumentato le sue valutazioni continuamente e per cinque settimane il successo della serie ha superato i confini del paese. Martin Pescatore, con il nome Ferid, inizierà a trasmettere domenica 30 ottobre sul canale MBC4 con sede negli Emirati Arabi Uniti e sulle piattaforme video che richiedono un abbonamento speciale Svod Shahid. Oltre al cast del Kingfisher, che incontra il pubblico il venerdì sera, Serif Setzer, Gulcin Antrkolu, Emrealtu, Gosde Kansu, Ersin Ark, Beril Pozzam, Dukan Polat, Irem Altu, Osnur Serceler, Uglia Duyar, Diren Polatullar, Setsin Bosak, Yit Tunkay, buce attori di valore come Buse Karaman, Kansu FRNC, Selenos Bayrak e Umut Gezer. Mehmet Bar Gunger scrive la sceneggiatura di The Kingfisher, che è stata realizzata da Burku Alptekin. Grazie a tutti.